La Soura è uno dei nostri cari ospiti dell'Eden Beach. Secondo te quali sono stati tre aspetti fondamentali del tuo soggiorno che ha l'Eden? Tre aspetti? Sì. Beh, diciamo, il principale è la vicinanza al mare. Ho prestato il cibo, tantissimo. Ecco, non immaginavo che fossero così puliti, che l'albergo fosse così ospitale. I ragazzi, l'animazione non è che ce ne vanno davanti, sono scopenti. Dalla Masina ti fanno sentire veramente i figli, ti fanno muovere, ti fanno gioire, ti fanno sentire veramente il festa. E' unico veramente il buon cuore. Ci tornerei sì, anche se sto chilometri di distanza, però ci tornerei perché veramente mi sono trovata più che bene. No, siamo qui per la seconda volta. Sì, e ci ritorneremo anche l'anno prossimo per la merca. Ok, quindi ti aspettiamo? Certamente. Va bene, salutiamo. Ciao. Ciao. Grazie.